Acqua Riva, sinfonia di profumi suavi. Selezionato tra i primi dieci ristoranti d'Italia per il consumo e la proposta di champagne, il ristorante Acqua Riva propone in un ambiente elegante la rinomata cucina di Paolo Favalli, dove il pesce è protagonista, insieme alle paste, ai piatti di carne e ai dolci alla carta. Il tutto è accompagnato da una carta dei vini con ben 600 etichette. La capienza invernale è di 70 coperti, quella estiva, compresa la terrazza, arriva fino a 200 coperti. Il locale dispone di ampio parcheggio e di sala per ricevimenti e banchetti.